bentornati su my football jersey siccome ormai ho visto tutte le maglie delle squadre principali e in attesa di avere quelle della prossima stagione andiamo a vedere qualche maglia retro questa è una maglia dell'arsenal del 2005 2006 di uno dei miei giocatori preferiti di Thierry Henry il nostro corso gratuito www.mesmerism.info wow la maglia è bellissima tra l'altro ha come dicevo di uno dei miei giocatori preferiti di Henry e quindi nella mia classifica non può far altro che prendere 4 stelle molto bello il tono di bordeaux che è stato scelto e bellissima rifinitura in oro che vedete sulla maglia come il solito qui in alto vedete il costo molto basso per una maglia fatta molto bene perfetta in tutti i particolari che vi permetterà di indossare un pezzo di storia qui sotto in descrizione vedete tutti i riferimenti per ordinare la maglia andate a vedere perché trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare per comprare quello che volete ora prima di lasciarvi alla parte finale se il video vi piace se il canale vi diverte e vi fa vedere cose nuove mi raccomando lasciateci un grande like ma soprattutto iscrivetevi al canale così avrete sempre nuove recensioni per oggi è tutto ci vediamo alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa quella che vedete è una taglia media della versione fan